I problemi urologici, il trattamento dei pazienti e le nuove frontiere delle cure sono i temi del convegno che si è tenuto presso la clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo a cura dell'Auro-IT, associazione degli urologi italiani di Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. Sempre più importante risulta il contributo della tecnologia, della robotica e dell'intelligenza artificiale nella cura dei pazienti affetti da problemi urologici. Oltre a offrire un aggiornamento continuo per quanto riguarda le metodiche sia diagnostiche che terapeutiche della pratica clinica quotidiana, però ha sempre avuto un occhio rivolto verso il futuro. Questa volta in questo ambito del razionale del congresso sono stati inseriti alcuni temi importantissimi a mio avviso. Il primo tema è quello della medicina personalizzata di precisione, che chiaramente è anche traslazionale, che si arricchisce del contributo dell'intelligenza artificiale per supportare in pratica le strategie preventive, la diagnosi, la terapia, la prognosi e anche il follow-up, unitamente anche la riduzione del rischio clinico. Ma l'urologia, un pochettino come tutta la medicina, è in continua, rapida evoluzione. Facendo una battuta si può dire che quello che è attuale oggi poi diventa vecchio domani. Quindi bisogna stare un pochettino dietro a tutte le novità per cercare di offrire sempre il meglio a quello che poi è il paziente, l'utente finale. Sicuramente la tecnologia sta sopravvanzando in tutti i campi della società, non soltanto nella sanità. Il che vuol dire che da noi ci sono strumentazioni nuove, tecnologie nuove, che vanno dall'aperfezionamento della robotica, tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Io stesso presenterò qualcosa sulla realtà aumentata, che sono termini che ancora non sono entrati neanche nel comune sentire del medico, che quindi è il protagonista principale. Però sono cose che appunto danno un grande vantaggio alla diagnosi e alla terapia del paziente e su cui stiamo discutendo e su cui speriamo di portare dei contributi ognuno.